gustiamoci fiat 682 l2 di fianco bellissimo fiat 90 l2 4 assi fantastica carrellata avendovi un camion a me sconosciuto un saurer non sono un super esperto di camion perdonate 1m ultime serie prima che la fiat lo mangiasse fantastica carrellata mondo di veramente camion stupendi si sono fatti il cuore della maddalena abbiamo fiat 180 e accanto un 180 lc camion più moderni ora torniamo nel passato con un fiat 690 l1 per continuare con un 690 l3 bellissimi un imeco un pochettino più moderno 691 stupendi stupendi e meravigliosi un piazzine 19 bellissimi e non solo camion pulman anche in questo raduno mercenese padale perdonate la mia incompetenza su questa materia univeco un altro padale e poi l'ultimo mezzo di questa carrellata uno stupendo om molto storico si presume carrozzato su fiat 626 ditemi voi iscrivetevi lasciate un like e commentate